Eliminazioni e colpi di scena a Ballando con le stelle Millie Carlucci, nel corso delle 5 puntate di Ballando con le stelle, ha escluso dalla competizione unicamente i cugini di campagna Nonostante l'introduzione di wild card, tesoretti e vari imprevisti, la conduttrice ha potuto mantenere in gara tutti gli altri concorrenti La quinta puntata, andata in onda il 26 ottobre, ha avuto esiti particolari, con la conclusione di un altro episodio senza eliminazioni Carlucci ha comunicato. Gli autori mi informano che, a causa di infortuni e possibilismi di ritiri, non elimineremo nessuno Ha inoltre aggiunto che Anna Lu ha vinto un bonus, ma di fatto nessun concorrente è stato escluso Nina Zilli e il suo possibile ritiro La cantante Nina Zilli ha recentemente dichiarato di sentirsi in difficoltà a causa di un infortunio subito qualche settimana fa Sebbene riesca a eseguire coreografie di buon livello, il dolore causato dall'infortunio è descritto come insostenibile Dopo la sua esibizione con Pasquale Larocca, Zilli ha espresso l'intenzione di ritirarsi La pressione dei giudici e il sostegno del pubblico l'hanno convinta a rimanere in gara, nonostante il concreto rischio di non partecipare alla prossima puntata Il medico mi ha raccomandato un riposo totale per due o tre settimane, sono state le sue parole Su consiglio di Fabio Canino, ha valutato soluzioni alternative per partecipare senza aggravare la situazione fisica La questione rimane aperta Nina Zilli si esibirà sabato oppure Millie Carlucci dovrà ufficializzare il suo ritiro? Grazie a tutti per il sostegno incredibile in queste puntate Cuore Rosso ci rivedremo presto Ospiti e membri del cast, Millie Carlucci, Nina Zilli, Pasquale Larocca Fabio Canino, Anna Lu, i cugini di campagna